Sono 26 le province italiane più esposte al rischio contraffazione, tra queste 5 sono Toscane e Arezzo è la quarta. L'allarme arriva da Confartigianato Firenze che ha organizzato una sfilata di moda per sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta contro la contraffazione, un tema che appunto colpisce duramente proprio la Toscana. Prato è la provincia più a rischio d'Italia, seguita da Firenze al terzo posto, Arezzo al quarto, Pistoia la quinta e Pisa l'ottava. La moda è ovviamente il settore più colpito. Quando si fanno le cose belle, le cose belle spesso e volentieri vengono copiate e quindi questo rischio c'è, è un rischio concreto che assieme agli altri enti che sono addetti al controllo stiamo lavorando per farsi e per evitare che l'abusivismo e la contraffazione portino dei danni a quella che è l'economia sana della nostra regione, della nostra provincia, perché è la maggior parte, oltre al 99% è un'economia sana.